C'è un comune in Sicilia dove diventa più facile fare impresa, si potrebbe dire si apre in un giorno e quel comune, il primo in Sicilia, è quello di Siracusa? Sì, noi siamo abbastanza contenti di avere implementato questo sistema informatico che consentirà finalmente alle imprese e a tutti gli intermediari, per intenderci i professionisti piuttosto che le organizzazioni professionali, di lavorare da un terminale, quindi di evitare il cartaceo e di andare negli uffici se questo non è strettamente necessario, tutto avverrà in via telematica. Facendo un esempio pratico, chi vuole aprire un'impresa per le autorizzazioni di competenze del comune adesso non dovrà necessariamente recarsi fisicamente in via De Caprio dove ci sono gli uffici al commercio? Esattamente, dovrà entrare nel portale, attraverso il portale potrà compilare tutti i documenti, ma non solo non dovrà più andare in via De Caprio, ma non dovrà più andare in nessuna delle amministrazioni pubbliche coinvolte eventualmente nel procedimento. Sarà il sistema che in qualche modo reindirizzerà alla sovrintendenza piuttosto che all'ASP, piuttosto che ai vigili del fuoco, tutte le pratiche. È una grande innovazione sotto il profilo, è una piccola rivoluzione. Sburocratizzazione, cito la sua rubrica, anche questo è sviluppo economico. Anche questo è sviluppo economico, quello che chiedono le imprese è naturalmente la semplificazione, di avere un rapporto con la brucozia molto più semplice, molto più meno bloccante, se posso usare questa espressione, perché naturalmente crea intraccio, perdita di tempo, costi.